...Pietro Vignoli del team Lorene di Passport, Fabione Turti! ...Pietro Vignoli del team Lorene di Passport, Fabione Turti! ...Pietro Vignoli del team Lorene di Passport, Fabione Turti! ...L'incontro è previsto sulla distanza delle otto riprese da tre minuti. ...E' l'inizio della prima ripresa. ...Pietro Vignoli del team Lorene di Passport, Fabione Turti! ...Pietro Vignoli del team Lorene di Passport, Fabione Turti! ...'! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti